Siamo notati in Gesù Maria, stasera la Palomiria, il padre sono allegrissimi, sarà breve, perché è semplicemente un invito a contemplare e a fare nostro quello che abbiamo ascoltato. Siamo intrati con questa celebrazione nella Domenica di Passoe e nella Settimana Santa. Quello che abbiamo letto è stato il racconto della Passione di Gesù secondo San Matteo, preceduto da una lettura molto bella di San Paolo, che poi brevemente ripercorretemo insieme. E dinanzi a questo mistero dobbiamo farci semplicemente delle domande, molto, molto serie. La premessa è questa, guardate, Dio opera, sempre, e ci tratta con interlocutori intelligenti. Lui fa le cose, le spiega a coloro che desiderano farsene spiegare. Che cosa voglio dire? Se uno guarda con occhi umani la vicenda che abbiamo letto, con occhi umani, attenzione a non fraintendere quello che dico, quello che è successo a Gerusalemme quel giorno, durante l'impero romano, era una cosa normalissima. C'erano tre congannati a morte, un supplizio orrendo, una percepizione che però purtroppo era previsto dal diritto romano, per i nonomani e per gli schiavi, i tre condannati non erano romani, uno crucifisso con i chiodi e due volte furi. Chi lo sa che ha fatto? Il cartello di Gesù, il delitto di cui fu accusato Gesù, sapete, era delitto di resa maesta. Perché lui diceva che era figlio di Dio e quindi si faceva più grande dell'imperatore. Siccome l'imperatore è il grande che c'è sulla terra, non ti puoi permettere, c'era ancora il codice penale quando c'era ancora il re, il delitto di resa maestà, quindi è un crimine. Gli altri due, erano due delinquenti, sono stati votati su Montecarlo e sono stati giustiziati a fine del discorso. È successo questo? Era solo questo? Allora, complessivamente, un paio di occhiali, il vertice di A, è ripetere tutte quante queste cose con le lenti della fede. Ecco, perché le lenti della fede ce le dà la seconda lettura. Chi è quello che è stato condannato in cruce? San Paolo ci ha detto, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, di attivo, non ha considerato un esodo geloso la sua guaglianza con Dio, cioè lui in quanto Dio, prima di diventare uomo, è eternamente felice, immortale, non poteva subire nessun tipo di forma di sofferenza, zero, perfettamente e bastante a se stesso, cioè quello che sono le nostre esotti, quella che è la nostra vita terrena, lui stesso lo ha creato, tutto quanto l'inferno che noi ci siamo stati a provocare per le mani nostre, a Dio non lo tocca minimamente, in un certo senso, lo capite? Non è che il peccato che lo fai toglie a Dio la felicità che ha, assolutamente, ce la toglie a noi la felicità. Che cosa ha fatto? Spoglia se stesso, in greco è, si vuota di se stesso, rinuncia alla sua gloria, rinuncia all'immontanità, rinuncia alla felicità, rinuncia alla sua libertà, e si va a rinchiudere dentro una turumana come la nostra, assume la condizione con questa turumana, c'è scritto di servo, non di servo, ma di schiavo, cioè lui ha tutto a fare, da uomo, tutto quello che il padre gli ha comandato, e tutto quello che noi, peccatori, non abbiamo fatto, non solo, umiliò se stesso, facendo subbediente, fino alla morte, e alla morte di croce, perché Gesù ha fatto la croce di esso? Gli hanno fatto un male terribile, Gesù, croce, sentiremo, il venerdì santo, era uno, inanzi a quando ci si copre la faccia, oh, io mi raccomando, se senti mangi, sono un sacco di appuntamenti, vi prego di leggere il correttino, così non ve lo ripeto dopo, un uomo è un appuntamento extra liturgico, è di martedì sera, io vi raccomando di partecipare, in massa, perché c'è uno stupendo film documentario, sulla sacra sindrome, cioè se volete rendere conto, di tutto quello che Gesù ha passato, scientificamente, colpo per colpo, dettaglio per dettaglio, quanto è fu stato ricevuto, come erano le spine, dove gli hanno messi i iodi, come è morto, vi sta spiegando tutto, io penso che sia il nostro dovere farlo, perché noi dobbiamo renderci conto, di quello che Gesù ha patito per noi, perché se non lo conosciamo, non possiamo essere migrati, non possiamo, cioè il racconto, la lettura del Vagiolo della Passione, ci fa capire qualcosa, a poco rispetto a quello che è stato, e perché ci sono sofferto molto bene? Attenzione, perché tutto il male, che noi abbiamo generato, non noi, se l'hai preso tutto, su un testo, capito? tutta la montagna animale, che l'uomo, dal primo all'ultimo, produce, aprite il telegiornale, vediamo, è tutto quanto concentrato, è abbassato su di lui, perché prendendolo, lui essendo il figlio di Dio, lo distrugge, attraverso l'amore, e attraverso la risurrezione, per dare loro la possibilità, di tornare a vivere, liberati, dalle tenebre, dal potere del male, e del peccato, questo è quello che dice la fede, umilò se stesso, facendo si obbediente, fino alla morte, e alla morte, di uscire, attenzione, noi dobbiamo, chiederci, non diamo la mano scontata, questa domanda, me lo sentirete dire tante volte, perché pure io, lo devo chiedere, io non sono diverso da lui, e ricordo sempre, che Sant'Agostino diceva, sui fedeli, io per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiani, quando io muoio, io trovo, dall'altra parte, la stessa cosa che trovate voi, anzi, io la trovo peggio di voi, perché io sono più tenuto di voi, a fare attenzione a certe cose, Gesù ci verrà davanti, con la croce davanti, dire, guarda cosa ho fatto io per te, tu l'hai accorto quello che ho fatto per te, ma un'altra cosa, ma tu mi hai mai detto grazie, provate a pensarci, voi avete mai detto a Gesù, grazie, ma col cuore dicono a lui, per tutto quello che ha sofferto per me, provate a pensare, come ci rimaniamo male noi, quando facciamo qualcosa di buono a qualcuno, mazza, ma anche grazie, la prossima volta, è brutto quando ti dicono grazie o no, ma noi gli abbiamo mai detto a Gesù, grazie, gli abbiamo detto a Gesù, ti benedico quello che hai fatto per me, non me lo meritiamo, ma del grazie, gli abbiamo detto a Gesù, ti amo, proprio così è, perché lui è l'unico, che è degno di sentirlo, perché l'unico che se lo merita, tutto il nostro amore, il 100%, le creature se lo meritano un po', perché qualunque creatura, qualche cosa di male ce l'ha fatta, no? Quindi se non merita il nostro amore, così è così, lo diamo lo stesso, ma lui se non merita tutto, ma gli abbiamo detto tutto, poi, ma noi ci crediamo veramente, che quell'uomo, crocifisso a Gesù, Gerusalemme era Dio, punto interrogativo, capite che, crederci veramente, ma ci crediamo, che quel uomo, crocifisso a Gesù, sarebbe, voi vedete che il venerdì santo, lo dico per quelli che non verranno, voi sapete che il venerdì santo, non si celebra la messa, lo sapete perché? Lo sapete perché? È l'unico giorno dell'anno, insieme al sabato santo, che non si celebra la messa, mi siete richiesti perché? Ricordate che se muore qualcuno, non si può fare la messa, neanche in un funerale, il venerdì e il sabato santo, si può fare un funerale senza la messa, siete mai chiesti perché? Perché la messa, in realtà, è una, cioè, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, quella è la messa, quello che noi facciamo sull'altare, non è altro che un, attualizzare veramente, quello che è successo nel Vigiene di Santo, cioè tra poco, quello che abbiamo letto nel Vangelo, sta qui, non è un simbolo, un rito, ma ci crediamo veramente, ecco perché il Vigiene di Santo, non si celebra, perché il Vigiene di Santo, si ricorda l'unica messa, che poi, come dire, sarebbe come se si suddividessi, tutti gli altari del mondo, in tutti i tempi, per rendersi presente, capite? ma io ci credo veramente, ci crediamo veramente, che questa bella chiesa, questa è bellissima, come pure una catapecchia di campagna, è la casa di Dio, cioè, lì dentro, guardate, lì dentro, ancora che è bella, c'è Dio in persona, capite? non c'è una mitafora, una cosa strana, abbiamo sentito cosa dice San Paolo, nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, in ginocchio, davanti a Gesù, è finita la lettura, della passione, c'è ragione, che sia l'obbligatoria, non è facoltativo, inginocchiarsi davanti a Gesù, ma è troppo po', cioè noi dovremmo non inginocchiarsi, sprofondare sotto terra, perché quello è Dio, che ha fatto quello, tra poco, quando io dirò, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, e alzo, ostia, voi, c'erate questo bellissimo, crucifisso da dietro, guardate, quello che sta lì, è quello che c'è in mano, capite? Nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, dove i nostri angeli, stanno spostrati, con la faccia a terra, capite? Gesù, queste cose, se le merita, sono dovute, capite? Perché è un gesto di donazione, in quanto Dio, è un gesto di amore estremo, in quanto ci ha dato tutto, ecco, io chiudo, fedele letta, alle mie promesse, mi raccomando, questa settimana, è la settimana, delle settimane, è il tempo più santo di tutti, io non posso pregare, però, suggerimenti, televisione, poco, musica, poco, bagordi, poche, questa è una settimana, di silenzio, di contemplazione, se possibile, partecipare, più possibile, ai liti della settimana santa, che chi può, che sono uno, più bello dell'altro, ecco, non avvenga, finisce la vita, e lui dice, ma tu sei mai stata la viglia pasquale? Mai, ma tu sei mai stata la messa in cena domini? Mai, ma tu sei mai stato, il tene di santo, la celebrazione delle tre, dove c'è la donazione della croce, la celebrazione della passione? Mai, sono uno più bello dell'altro, e ci porta l'uomo dentro, i misteri che vivono, in queste settimane, capite, è un nostro dovere, perché Gesù ha fatto la sua parte, ma quando saremo morti, Gesù dice, fratello mio, sorella mia, ho dato la vita per me, e lo vedremo punti guardi, il film della passione, l'hai visto col fatto? E tu come hai risposto? Mi hai mai detto la canzone? Cioè, mi hai mai pensato? Mi hai dato un po' di tempo? Mi hai detto gli anni? Capite? Solo questo, ecco, Santa Teresina diceva, amore con amor si vaga, almeno questa settimana, se vorrebbe fermarmi un uomo, d'accordo, per contemplare, Cristo percepisce, il mondo non si può fermare, ma un po' del nostro tempo, vi invito e vi esorgo, come posto, sacerdote, e vostro fratello, anche la fede, perché anch'io, devo questa settimana, tutto polarizzare, la mia attenzione verso di lui, viverla in questo modo, la affidiamo a Maria Santissima, che possa essere una settimana, davvero santa, ricca di frutti, abbondanti, e di benedizioni, per tutti. Siamo dati Gesù e Maria. Siamo dati. Siamo dati. Grazie.